Salve a tutti, ARF 2019 si conclude con questo panel e da quando con gli altri ARF abbiamo ragionato su quale sarebbe stato il panel conclusivo di questa edizione che un pochino tirava le fila di un'altra annata di discorsi, confronti fra noi fumettisti, con i lettori, con gli editori e con chi ogni giorno cerca di raccontare storie, arrivare alla gente subito abbiamo deciso di partire da quello che stava succedendo in concomitanza con il Salve del Libro di Torino ma non per parlare delle scelte del Salve del Libro di Torino ma per parlare delle scelte che dobbiamo fare noi ogni giorno come autori, come editori, come lettori ma soprattutto come antifascisti e qui abbiamo deciso quindi di coinvolgere alcune delle personalità più attive in questo campo sia con il loro lavoro che con il loro pensiero che con i loro scritti e invitarvi a partecipare a questo incontro grazie che siete venuti così tanto io invito su questo palco e li chiamo in rigoroso ordine alfabetico perché per noi sono tutti ovviamente preziosi vi chiedo un applauso per Maura Gancitano la filosofa Maura Gancitano Daniele Fabri Michela Murgia Massimiliano Clemente Alessio Spataro Marco Rizzo Marco Rizzo purtroppo ha avuto un inconveniente ma ci ha lasciato un video che ora vi faremo vedere Zero Calcare Lascio l'onore e l'onere di condurre questo incontro a Adriano Ercolani Buonasera a tutti allora un grandissimo onore non è né piageria né retorica è un dibattito penso cruciale io ringrazio Marco Rizzo perché mi ha lasciato la sedia perché se c'è stava lui io stavo in piedi e per prima cosa con Alessio abbiamo passato una settimana a spiegare alle persone che il Marco Rizzo invitato non era il politico perché c'erano centinaia di commenti su Facebook ah parla proprio lui che poi no invece non era lui quindi adesso io pregherei la regia cortesemente di mandare il contributo video di Marco abbiamo la necessità di riappropriarsi delle parole e di spiegare in questo paese che i temi del lavoro a noi cari che sono concretizzati in quel simbolo cari amici salve buonasera a tutti mi spiace non essere lì mi spiace tantissimo c'è un parter davvero eccezionale di persone fantastiche e Daniele Fabri e mi spiace davvero perché mi interessa prima di tutto da ascoltatore quello che si potrebbe dire oggi il mio piccolo contributo alla riflessione non so se questo video verrà mandato prima dopo a metà o se verrà dimenticato nell'hard disk il mio piccolo spunto può essere solo uno sono sicuro che sarete partiti dalla questione del salone del libro io ho detto che sarei andato tra l'altro sarei andato da turista perché non avevo nessun impegno lavorativo al salone e l'ho fatto ho avuto occasioni di confronto con amici anche con persone che la pensano diversamente da me ma non ho avuto occasioni di confronto ne l'ho cercata con i fascisti io con chi non ha rispetto per il confronto democratico non ho rispetto e quindi non offro la sponda per nessun confronto ma allo stesso tempo non voglio rinunciare alle altre occasioni di confronto sano o anche di divertimento come può essere il salone del libro per colpa loro ci sono stati degli errori da parte dell'organizzazione sono errori che ho citato sono errori di cui ho discusso anche con alcuni membri del comitato però non volevo privare me stesso della presenza inoltre ho fatto un paragone forse un po' azzardato nel mio post su facebook magari può aver dato fastidio ma ho detto che da siciliano dico sempre che chi fugge da questa terra chi fugge, attenzione non chi fa via perché ha necessità ma chi fugge la rischia di lasciarla, di abbandonarla nelle mani dei cattivi il mio paragone era proprio con Peppino in passato visto che il salone si apriva quest'anno il giorno dell'anniversario dell'uccisione di Peppino e Peppino era uno di quelli che poteva mettere a frutto il suo genio altrove a maggior ragione visto che non era accettato né dal suo paese né dalla sua famiglia da buona parte della sua famiglia quindi il mio paragone era chiaramente provocatorio ma ci tengo a precisare che ogni forma di lotta è legittima quando è una forma di lotta contro chi è fascista, chi è antidemocratico, chi è irrispettoso ogni forma è valida ma soprattutto dobbiamo ricordarci che stiamo combattendo diverse forme della stessa lotta quindi mi auguro, sono sicuro che non sarà così che questi confronti che possiamo avere tra di noi che ci riteniamo dalla parte dei buoni a proposito di supereroi che questi confronti siano sempre pacifici che nessuno dica all'altro chi è più o meno antifascista chi è più o meno democratico sono tutte forme della stessa lotta e ognuna merita rispetto lo dico in particolare riferendomi alla posizione di chi come Zero Calcare, Wuming persone che stimo, ciao Michele che hanno scelto altre posizioni sono legittime anzi adesso forse è il momento per tutti quanti indipendentemente dalle forme di lotta che vogliamo scegliere contro questo momento di ignoranza al potere incompetenza al potere fascisti o pseudotali o sedicenti tali o neotali al potere è il momento di provare a qualizzarci non so se tutti la pensano come me non credo, anzi spero di no ma forse è il caso di provare magari a creare un manifesto un collettivo un qualcosa magari anche una produzione dove noi che la pensiamo in una certa maniera diciamo che no passeranno buona continuazione buona fine dell'ARF mi spiace tantissimo non esserci tra l'altro ho visto delle magliette bellissime buon divertimento ciao mi sentite con questo? si sente questo microfono? perfetto così lo usiamo allora io vorrei introdurre questo incontro parlando il meno possibile Mauro quando mi ha invitato a presentarlo ha detto però di anche le cose insomma non fare solo il pippo baudo della situazione esprimi anche il tuo punto di vista il mio punto di vista brevemente è questo qui non si tratta di libertà di opinione qui si tratta di barbarie noi stiamo vivendo un momento che è veramente quello che nell'Icinga è l'ottenebramento della luce cioè il momento in cui i nobili vengono oppressi dagli ignobili non si tratta di opinioni politiche qui si tratta di una macchina devastante di calunnie sistematiche che attraverso l'inganno hanno preso il potere compiendo dei reati quello che noi stiamo testimoniando non è una forza politica che porta avanti le sue idee più o meno discutibili qui parliamo di persone che stanno calpestando non solo la costituzione ma i più elementari minimi requisiti dell'umanità attraverso una compagna spietata nemmeno immorale perché non dirò nemmeno la dignità lo sapete Dante nell'inferno gli ignavi vengono messi prima dell'inferno perché non hanno nemmeno la dignità del male secondo me queste persone non hanno nemmeno la statura satanica che poteva avere un androtti siamo davanti veramente a dei cialtroni che attraverso un inganno sistematico stanno corrompendo le coscienze e secondo me la vera vittoria non è quella elettorale o quella politica ma è l'abbassamento del dibattito a un livello di polarizzazione talmente stupida che qualsiasi ragionamento argomentazione resa vana ora di fronte a questo quotidiano avanzamento centimetro dopo centimetro della normalizzazione di comportamenti criminali che fino a due anni fa erano impensabili e adesso sono motivo di dibattito in tv è giusto o meno sospendere una professoressa perché nelle slide è giusto o meno nemmeno lei nelle slide gli studenti fanno un accostamento peraltro forse ingenuo ma non così distante dalla realtà è giusto o meno quello che stanno facendo a Mimmo Lucano è giusto o meno lasciare morire delle persone in mare è giusto o meno già il fatto che si dia dignità di opinione a qualcosa che è barbarie è qualcosa di allucinante in questa grazie in questa situazione allucinante che non è soltanto italiana l'otenebramento della luce appunto è in copertina la stella nera di Gary Larkman che è un libro che spiega molto bene come la macchina della propaganda populista sia così spietatamente pervasiva e capillare e criminale e stia purtroppo oggi è un giorno cruciale speriamo di poter fare ancora dibattiti di questo tipo in futuro vista la potenza criminale di questa macchina della propaganda di fronte a questa situazione allucinante noi abbiamo una opposizione a livello parlamentare pressoché inesistente l'inesistenza cioè non una strategia inefficace l'inesistenza ci sono paraterie per portare un milione di persone in piazza ogni giorno ci sono motivi e c'è la morte ora secondo me e concludo il fatto che dalla cultura sia nato il dibattito al di là delle diverse posizioni io personalmente per quello che riguarda il sonno di Torino sposavo la linea diciamo per capirci di Michela Morgia anche se rispettavo moltissimo quella di Michele di Zero Calcare il fatto che se ne sia parlato che si sia indicato l'elefante nella stanza che è un elefante pudrito e assassino l'abbiamo dovuto fare degli autori dei filosofi da un lato è sconcertante da un lato è una splendida notizia perché finalmente si può iniziare a pensare nuovamente a un lavoro sulle coscienze ora se voi siete d'accordo io lascerei la parola per pochi minuti ad ognuno per un primo giro di opinioni e poi possiamo fare diciamo un conseguente confronto se mi consentite di seguire l'ordine io vorrei iniziare con Mauro Agancitano filosofo fondatrice di Tlon per quello che riguarda diciamo questa posizione secondo me la grazie Michela la figura di Mauro è molto interessante perché la polarizzazione stupida del dibattito ha fatto sì che anche la sua opinione spesso viene citata in maniera fuorviante Mauro ha fatto un video molto intelligente e molto efficace che ha avuto più di un milione e mezzo di visualizzazioni in cui lei spiegava come fosse stupido farsi dettare l'agenda da Salvini seguire pedissequamente ogni tweet di Salvini indignarsi quotidianamente se lui si mangia il panino con la nutella questa cosa è diventata ah vabbè ma se lo contesti devi fare visibilità non era quello che intendeva Mauro se uno viola la costituzione devi fare opposizione se uno commette un reato soprattutto se è il ministro degli interni lo devi dire non è un influencer è il ministro degli interni allora se Mauro vuole può esplorare questa differenza tra strategia comunicativa e opposizione politica certo dire di stare attenti quando accade un fatto di cronaca grave in quel caso si trattava del crollo del ponte di Genova perché non diventi una persona che scrive un tweet il protagonista quando le persone protagoniste sono intanto le vittime poi le persone che stanno aiutando le vittime e poi tutta la vicenda che è da chiarire dire questo non significa dire di ignorare quello che sta facendo questa persona non è più solo questa persona che sta facendo qualcosa in realtà si è messa in moto una macchina che sta in qualche modo una malattia che sta infettando tantissimi corpi in Italia la comunicazione la polizia ci sono tante vicende quotidiane che stanno accadendo l'istruzione che prima non accadeva non era così sta cambiando qualcosa io ultimamente mi sono trovata a leggere Gramsci e a leggere soprattutto la storia di Gramsci e a trovare tante similitudini perché detta così cioè mi rendo conto che si sembra cioè diamo l'impressione di essere fissati stare sempre lì a dire il fascismo il fascismo no ma guarda è un pericolo che non esiste invece se tu vuoi vedere la storia ti rendi conto che anche allora dicevano che quel pericolo non esisteva anche allora perché ci sono stati dei moti tra il 1917 e il 1920 operai che poi avevano portato la borghesia dato che quei moti erano stati repressi ad avere paura che le persone più appunto che avevano bisogno di diritti per esempio di diritti del lavoro avessero potere per cui il movimento mussoliniano cominciò ad attrarre tutte queste persone che non volevano perdere i privilegi perché poi alla fine si tratta sempre di questo e non perdere i propri privilegi per cui di similitudini ce ne sono tante c'è proprio tutto un movimento che è accaduto nel giro di qualche anno quindi fino all'omicidio di Matteotti poi dopo l'omicidio di Matteotti per qualche mese ci fu un momento di arretramento degli squadristi e poi di nuovo 3 gennaio 1925 Mussolini fa un discorso da cui non si torna indietro e che mette i brividi ecco tutte queste cose oggi noi le ridicolizziamo perché oggi quella che sta accadendo non è politica è prepolitica cioè a livello di filosofia politica questa non è politica quindi questo è un discorso prepolitico che si basa sulle stesse leggi del marketing e della pubblicità quindi in sostanza si utilizzano gli stessi strumenti i sondaggi l'engagement tutti degli strumenti che hanno lo scopo di creare traffico intorno a personaggi in particolare e poi ci sono delle garanzie democratiche che stanno venendo meno come è accaduto qualche decina di anni fa anche stavolta appunto come dicevi non c'è l'opposizione ci si fa la guerra a vicenda ci si ritrae si ha paura ed è come se fosse proprio una malattia italiana cioè come se ci trovassimo di nuovo di fronte allo stesso burrone e di nuovo avessimo paura di capire che cosa fare perché se tu vai a vedere cosa faceva Turati cioè cosa facevano questi personaggi che adesso sono grandi ma è inquietante non facevano niente questa cosa è veramente terribile per cui è un momento in cui bisogna fare qualcosa per cui appunto quel video appunto è diventato virale quando io pensavo di parlare esclusivamente alle persone di quella pagina e per quanto mi riguarda per quanto riguarda Atlon noi cerchiamo di fare tanto con te abbiamo fatto anche una serie satirica sugli spin doctor che aveva lo scopo di spiegare che cosa fanno gli spin doctor facendo finta facendo satira quindi facendo finta di inventarsi le cose ma in realtà non inventando in realtà cercando di mostrare molte cose perdonami che noi abbiamo detto come battute dopo due mesi sono diventate realtà sì sì non c'è ormai prima noi vediamo dopo un talk un panel sulla fantascienza ma in realtà questa purtroppo è la realtà ancora rimanere fantascienza questa non lo è più per cui no non bisogna ignorare cioè non bisogna far finta che non esistano queste persone che non stia succedendo niente anzi bisogna segnalare perché questo è essere cittadini e cittadini cioè essere cittadini e cittadini significa fare attenzione quando una persona che tra l'altro non ha una carica non è un poliziotto entra al Parlamento con la divisa di poliziotto questa cosa ci deve far venire in mente cioè è un ci deve suscitare qualcosa nel senso che se tu non te lo ricordi cioè se non ti viene in mente c'è qualcosa di strano se non c'è qualcosa di strano in tutto quello che avviene quotidianamente se non c'è qualcosa di strano che la polizia picchi un giornalista se una professoressa venga sospesa semplicemente per delle slide proiettate tra l'altro c'è un sacco di scuole che stanno facendo quel tipo di lavoro perché gli studenti non sono stupidi e quindi stanno facendo quel tipo di approfondimento se non c'è niente di strano vuol dire che il problema alla base è un problema proprio una malattia italiana che evidentemente non è stata guarita che non abbiamo metabolizzato cioè proprio una cosa un rimosso che non è stato metabolizzato e che chiama tutte le persone a fare qualcosa in questo senso io non penso che sia una cosa da fare io penso che si debba fare fronte comune quindi si debba andare nella stessa direzione ma più cose si fanno più voci ci sono più creatività si mette in moto in quella direzione meglio è io faccio solo una considerazione logica il ministero degli interni è unico depositario dello stato della violenza legale della possibilità di violenza legale il ministero degli interni pubblica un libro con la casa editrice legata a un movimento anticostituzionale un sindacato della polizia sostiene apertamente questo ministro e il suo partito politico cosa che non si può fare guarda caso in una città a medaglia d'oro della resistenza la polizia picchia i manifestanti per proteggere uno sparuto gruppo di una di un partito in movimento anticostituzionale cioè è sotto gli occhi di tutti facendo per ordine Daniele che vuoi vuoi che ti fomento vuoi che ti morgo dimmi tu nel senso che fomenta mi ti prego beh allora diciamo tu hai un discreto storico di confronti dialettici con quest'altra quest'altra opinione vuoi darci una tua testimonianza anche come dire ormai hai sviluppato delle certe tecniche di contrapposizione ma oddio confronti dialettici non lo so perché non sono mai stati confronti dialettici nel senso che voglio fare una premessa io sono un po' in difficoltà nel parlare per secondo perché di solito sono cioè io sono sempre una persona che cioè la mia il mio lavoro su tutto ciò che ha riguardato l'antifascismo con i fumetti con gli spettacoli io faccio il comico nella vita e il mio modo di affrontare questi argomenti è il comico ma non per altro perché fondamentalmente io non credo di essere una persona così diciamo che ha un pensiero così articolato sicuramente formato ma non so non riesco a dare moltissima importanza al tutto ciò che riguarda il dover approfondire e spiegare nel 2019 perché certe cose sono stronzate cioè sono proprio io ho veramente delle difficoltà perché poi io ascoltavo un tuo video ieri in cui tu dicevi nel video siamo in un'epoca in cui bisogna ribadire l'ovvio e quindi dobbiamo farlo io purtroppo sta cosa non ce la faccio mi rendo conto che non ci riesco quindi non sono proprio la persona adatta per avviare però in realtà a livello paradossale antifrastico comico come se lo ribadisci ovviamente in una maniera paradossale per carità figuriamo io poi non è che penso che quello che dico siano scemenze però io so di mio che fondamentalmente non ho non ho granché sviluppato una mia capacità di non partire subito dall'assunto cioè parlare del fatto che il fascismo sia un problema certo è ovvio cioè per me il fascismo è come una giornata di lavoro importante cioè hai una giornata di lavoro importante è proprio quel giorno in cui servono che ci sia un equilibrio particolare eccetera e tutto quanto stiamo lavorando perché ci sia qualcosa di importante quel giorno ti viene un attacco di diarrea è un problema certo che è un problema potrebbe rovinarti tutto nessuno si è mai messo a pensare se la diarrea fosse in qualche modo inglobabili nell'equilibrio di quella giornata ma è un cazzo di problema punto e basta così va trattato il fascismo come un attacco di diarrea mentre stavamo a cercare di costruire un futuro migliore ed è chiaro che noi è un problema che dobbiamo risolvere cioè oia pasticche e cose però fondamentalmente il mio lavoro che è quello che ho sempre cercato di fare con la comicità è per me c'ha un'unica utilità perché poi io non sono non ho mai dato importanza alla satira le cose la satira non ha mai cambiato una legge che ho spostato in voto in penso 2500 anni di storia semplicemente la satira c'ha una funzione attraverso la comicità quello di farci sentire una comunità che si diverte provando un sentimento il mio lavoro è quello di far divertire le persone farle sentire una comunità affiatata sul dire che il fascismo è diarrea punto il mio le mie esperienze dialettiche in realtà non me le sono cercate anzi devo dire che quando è successo l'episodio lo riassumo perché magari qualcuno non lo sa giustamente io ho scritto un fumetto insieme a Stefano Antonucci tre anni fa si chiama quando c'era lui e la storia era molto semplice c'è un gruppo di neofascisti che ai giorni nostri vuole riportare Mussolini in vita per gli dargli in mano le sorti del paese vanno a prendere il cadavere a predappio lo fanno risuscitare con un esperimento tipo Frankenstein Jr soltanto che durante l'esperimento qualcosa va storto quindi Mussolini torna in vita negro eh ora quando abbiamo presentato questo fumetto al al Romics tre anni fa sono venuti veramente quelli di Casa Pound arditi poi un gesto proprio di coraggio già in realtà all'epoca non sapevamo qual era la spinta propagandistica pensare che tre tizi di Casa Pound hanno speso dei soldi per entrare in un posto in cui ci sono dei libri che si eleggono comunque ci ha colpito e in realtà io sono stato tra virgolette in quell'episodio io e Stefano siamo stati abbastanza fortunati perché quell'episodio è stato descritto formalmente come un'aggressione fascista e io dico sempre che in realtà cioè le aggressioni fasciste sono quelle dove la gente si fa male per davvero noi abbiamo avuto questa cosa che hanno fatto loro di buttare la Coca Cola sui fumetti fa un po' del bagarre chi ha la Coca Cola lascia stare non mi fa partire se non mi parto con tutto il repertorio qua non finiamo più però io ho sempre detto quella non è un'aggressione è un gavettone fascista però le aggressioni per le parole le usiamole per quello che sono ma la cosa che mi colpì all'epoca era che io non avevo mai sentito utilizzare in cronaca così tanto la parola fascisti in maniera esplicita cioè io nella mia vita sono stato molto vicino a situazioni sul territorio in cui amici miei hanno preso gli schiaffi dai fascisti per strada e poi si descriveva come rissa tra balordi gli anarcho insurrezionalisti che non si sa che cazzarola vuol dire c'è sempre stato questo tipo di rapporto nel nostro caso il fatto che per tre settimane ogni volta che veniva citata la notizia la parola fascisti veniste descritta in maniera così esplicita mi ha fatto rendere conto che in realtà era una cosa che non mi era mai capitata così tanto e mi ha galvanizzato cazzarola sono stato proprio contento anche perché vedere che moltissima gente che magari per qualsiasi motivo seguiva già il mio lavoro comunque aveva visto altri nostri fumetti precedenti eccetera sentire questa spinta così forte perché c'era tantissima gente che ci ha detto io manco mi leggo i fumetti però solo perché hai fatto un fumetto su qua la merda lo compro lo regalo a tutti gli amici miei questa per me è la parte del mio lavoro che più mi importa io dico sempre che non sono nemmeno così tanto bravo a fare analisi politica sull'attualità perché anche se la mia forma anche se vorrei mi rendo conto che dal punto di vista emotivo sono abbastanza medio cioè io so riconoscere i buoni dai cattivi poi per decidere chi devo andare a votare fra tre ore comunque ho dovuto studiare tre settimane per rendermi conto però so che quando si parla dei fascisti proprio se chiude una vena nel cervello non passa il sangue su quella cosa non ci si parla non ci si discute all'inizio mi sentivo pure strano perché dico no dovrei essere una persona che in qualche modo no ragiona analizza no non mi frega un cazzo io non lo so più manco perché mi stanno sul cazzo i fascisti così a pelle però il fatto che mi irrigidisco è veramente un anticorpo che funziona quindi io so che finché c'erò questa reazione non me la voglio nemmeno spiegare me la tengo calda quei fascisti in cese parla quei fascisti in cese discute punto e basta e poi chiudo l'argomento stupido che il fascista poi ti dice ah beh questa è la tua democrazia oh ma che mi stai a pia per culo cioè un fascista che ti accusa di non essere democratico è come uno stupratore che si lamenta perché non gli fai una carezza oh regà calma calma basta non c'ho altro da aggiungere venendo a Michela Michela diciamo ha rappresentato secondo me un oltre a tutto il suo ora non c'è bisogno che ti presento se siamo qui stasera penso che tutti conoscono se stai cercando di fomentarmi non serve no 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 io ti dico pensa quanto rossicato io quando ho fatto il test antifascista fascista sono uscito comunque fascista quindi comunque sono io e sono fomentato contro le idee io ho sette ho fatto al mio test a parte gli scherzi la cosa secondo me importante è il fatto come lei abbia decostruito quella cosa diciamo prima con Maura ah ma non gli date visibilità a Salvini perché poi che fai fa il gioco suo no lei ha fatto un post in cui ha smontato punto per punto la retorica falsa e ipocrita di Salvini e sul suo stesso terreno cioè quello dei like quello delle condizioni l'ha sfondato quindi secondo te quanto è importante controbattere punto su punto visto che non stiamo più parlando perché l'equivoco qual è secondo me ah ma a Casa Pound sta al 0,5% sì ma Salvini è ministro degli interni è amico loro quindi di fatto è come se Casa Pound con la maschera governa secondo me io vorrei uscire da qui con qualcosa di più di concreto in mano perché come la penso io come la pensa Michele come la pensiamo più o meno lo sappiamo ecco possiamo giustamente tu dici non cascare nella trappola del misurare chi è più chi è meno antifascista eccetera il dato da cui partirei io che non risponde alla tua domanda perché io ne ho una invece di domanda io sono venuta qui non con risposta ma con domande e quindi la faccio la domanda quello che è successo al salone risuccederà ricapiterà perché ovviamente la democrazia ha degli intestizi ha dei dei percorsi che sono accessibili in assenza di fattispecie di reato specifiche sono accessibili anche a questa merda quindi loro cercheranno in tutti i buchi di infilarsi dentro quindi noi ci ritroveremo esattamente nella stessa situazione Torino che cosa ci insegna che se tu la sottovaluti quella roba ti fotte semplicemente c'è stato un errore di metodo io quando dico di metodo intendo dire che io do per scontato che siano tutti antifascisti da Nicola Laggioia che ha organizzato a Michele a Vuming che hanno detto se ci sono loro non ci andiamo quindi la questione di chi è più o meno antifascista non è il caso non è il caso nemmeno di discuterla siamo tutti antifascisti la questione è quanto è urgente al di fuori non appiattire sul tema della legalità cosa si può fare cosa non si può fare per legge perché è chiaro che quello che questi hanno fatto per legge si può fare e siccome sono stati cacciati dal salone hanno fatto causa e la vinceranno questo è certo quindi se noi cerchiamo la questione della legge sulla legge perdiamo la questione è politica o prepolitica come dice ma secondo me politica perché quello che è successo ed è davvero un buon segno su questo come dire sono d'accordo anch'io è che noi prima di prendere le rispettive posizioni ci siamo sentiti cioè non è stata una questione di coscienza personale cosa decido io in che modo mi rapporto io a questo fenomeno come me lo salvo l'imene o non me lo salvo non era questo il problema ci siamo chiamati e abbiamo detto troviamo una linea discutiamo vediamo se perché questa cosa va affrontata insieme questo è già un passo ulteriore rispetto tipo a cinque anni fa quando questa cosa qui erano problemi personali esattamente come il fascismo era un'opinione adesso non è più un'opinione adesso è un fenomeno molto articolato giustamente tu dici possono avere la percentuale che vogliono nel momento in cui la loro rappresentazione pubblica ha un peso superiore alle loro percentuali noi andiamo verso la rappresentazione le percentuali sono solo il punto di partenza quando mi dicevano eh ma sono solo sei metri quadri eh ma da quei sei metri quadri tu stai cominciando a occupare uno spazio che simbolicamente ne vale molti di più specialmente quando tiri fuori un comunicatino stampa in cui annunci che hai l'intervista al ministro degli interni e qualche fesso a Repubblica non verifica neanche la notizia e te la sbatte in pagina così poi si scopre che non era vero che non c'era alcuna presentazione che Salvini certamente non sarebbe andato però qualcuno ha boccato ecco c'è stata data un'esca e un sacco di gente ha abboccato qualcuno per ingenuità per sottovalutazione qualcun altro semplicemente per mancanza di professionalità è una leggerezza che quando sei stipendiato e hai la responsabilità di creare parola pubblica e opinione pubblica non dovresti poterti permettere però in generale quello che è successo è una cosa che non deve ricapitare in quel momento lì per istinto io avrei detto dove ci sono i fascisti non ci vado allo stesso tempo però mi son detta ora che il danno è fatto ed è un danno oggettivamente se io me ne vado non faccio danno a quegli stronzi non ne ne faccio faccio danno ai miei compagni che sono dentro e che non se ne possono andare per varie ragioni non ultimi i compiti istituzionali che ciascuno aveva perché la responsabilità mia è verso me stessa quella di Nicola Gioia era verso i committenti verso la politica verso il commerciale verso le 150 persone che lavoravano sotto di lui quindi non sono posizioni comparabili ecco io non volevo che quello sembrasse un modo per dire io me ne vado perché sono antifascista quindi voi che restate siete meno antifascisti di me quello mi sembrava come dire una cosa che poteva essere usata e di fatto è stata usata strumentalmente da qualcuno che aveva quell'intenzione quindi io sono rimasta lì sulla posizione che ho esposto ma con l'idea di dire ma perché diamine mi avete messo in questa posizione cioè non ci dovevamo trovare in questa posizione lì le questioni sono due i fascisti ci sono si stanno organizzando e stanno utilizzando gli strumenti democratici per il loro progetto antidemocratico questo è sotto gli occhi di tutti la questione è vogliamo continuare a sottovalutarli e dire non diamogli visibilità perché io lo so Nicola può aver pensato in quel momento due mesi prima del salone quindi quando gli è stato fatto notare la questione lui ha pensato se io faccio casino adesso questi che si sono appena costituiti nessuno li ha mai sentiti nominare gli accendo un faro della madonna addosso e gli do la visibilità che non hanno non gli do cioè la solita trappola di non parliamone e così non se ne accorge nessuno ma il momento storico non consente questo perché loro lo useranno quel microscopico spazio lo useranno per moltiplicarlo esponenzialmente perché hanno un ripetitore che più in alto non si potrebbe lì la questione non è il rapporto tra Salvini e Casa Pound la questione è che nella storia d'Italia non c'è mai stato un ministro degli interni che è stato anche premier e uso premier non vice premier che queste sono parole che non hanno nessun significato quest'uomo sta comandando in Italia quindi è il premier a tutti gli effetti facciamo fatica a ricordarci persino che ce n'è un altro che in teoria dovrebbe ricoprire il ruolo quindi quando mai il ministro della polizia è stato il premier non è mai successo solo questo dovrebbe farci dovrebbe farci fibrillare solo questo cioè per una questione proprio di bilanciamento dei poteri chi è a capo dell'esecutivo non deve avere la polizia in mano è passata così questa cosa tranquillamente io sono preoccupata di quello ma non di Casa Pound di quello sono preoccupata Casa Pound è il sintomo che lui può fare quello che vuole certo quello che ti dico è questo che ha più libri più liberi quelli ci proveranno ci proveranno a Pordenone Legge ci proveranno a Mantua ci proveranno in tutte le fiere dove è possibile ficarsi se venderanno bicchieri andranno alle fiere di bicchieri se venderanno la questione è dal punto di vista legale non possiamo fare nulla cioè dal punto di vista legale finché la magistratura come dire non scioglie Casa Pound ma non era Casa Pound era Altaforte cioè era un imprenditore tecnicamente e anche se il capo di quella società ha delle responsabilità penali personali questo non esclude che Altaforte partecipi al salone e per quello che dico non usiamo la legalità perché la legalità paradossalmente ci fa perdere cioè non è questa la regola lì bisognava fare un atto simbolico e avere il coraggio di pagarne il prezzo tenendo presente però che quel prezzo non sarebbe stato pagato in solitudine quello che è successo è che le solitudini si sono sommate nel momento in cui quando devi assumere un metodo di lotta cerchi un metodo di concertazione concertare no su questo non si può concertare se non ci fossero stato Michele si è ritirato Wuming si è ritirato non sarebbe successo comunque niente se non si fosse ritirato Ginzburg Auschwitz e Lampi cioè lì parliamo cominciamo a parlare come dire di tre simboli di tre pilastri talmente forti non sono più autori non sono scrittori con una propria coscienza in fermento sono garanti di quel sistema simbolico che non solo l'antifascismo ma la democrazia stessa lì come dire una breccia si è aperta non nella politica la politica farà sempre comunque quello che le para il culo quello che hanno fatto Appendino e quello che ha fatto Chiamparino sono scelte che se gli fossero state presentate due mesi prima senza nessun ritiro nessun casino nessuno che si era come dire fatto indietro non l'avrebbero fatto avrebbero detto siamo inclusivi teniamo tutti quindi loro non hanno scelto per antifascismo hanno scelto perché la pressione dal basso era troppo forte riguarda noi la questione non la politica cioè c'è stato dato una dimostrazione di che cosa succede quando tu usi il metodo dolce quando tu pensi che fare finta di niente possa essere la cosa giusta non ce lo possiamo più permettere è risposta è risposta alla mia domanda infatti ok scusa sembra che sto incazzata ma sto incazzata perché nessuno in quel momento avrebbe voluto essere messo nella condizione di decidere se fare le barricate dentro o fare le barricate fuori perché sembrava che facevi le barricate con i compagni le barricate contro gli amici le barricate contro le persone con cui ti eri sentito fino a luna di notte per trovare una linea comune questa cosa qui come dire avevamo tutti incazzati di essere stati messi nella condizione di doverla fare però allo stesso tempo a differenza di metodo non cambia il fatto che l'obiettivo fosse comune la speranza è che al prossimo giro che sarà fra due mesi fra due mesi al prossimo giro un minimo come dire di metodo preventivo sia possibile operarlo per esempio secondo me non è illegale chiedere una dichiarazione di antifascismo a chi si presenta a questo tipo di cose lo puoi chiedere è costituzionale totalmente perché la costituzione è antifascista e quelli di certo non lo firmano non adesso che si sentono così forti da potersi persino pronunciare ma il paradosso secondo me è che Salvini fa cose talmente scandalose ogni giorno che poi affiorano come incubi noi abbiamo un ministro degli interni che non ha partecipato alle celebrazioni della liberazione riducendo la liberazione dal nazifascismo al derby fra fascisti e comunisti uno che giura sul Vangelo della Costituzione e quotidianamente sputa sul Vangelo della Costituzione per quello che riguardava il discorso di muoversi nelle pieghe della legalità un esempio emblematico e schifoso ve la ricordate quella che mise la maglietta Auschwitzland quella era preparatissima poi queste cose le sappiamo chi si occupa dei movimenti di estrema destra loro conoscono benissimo le pieghe della legge dice ma io non mica ho cantato quell'inno quella apologia del fascismo io ho cantato faccetta nera lo posso fare e è inutile che facciamo finta e per questo è bel da un lato è disperante che siamo dovuti arrivare a questo punto per mettere a terra l'argomento da un lato meno male che finalmente lo si fa ragazzi Franco Freda c'è una rubrica sul libro sul giornale dei moderati Franco Freda scrive le sue opinioni uno che ti dice che Salvini è il salvatore della razza bianca guardami in faccia guardami in faccia e renditi conto che io pubblico per una casa editrice dove l'editorialista del primato nazionale Diego Fusaro viene pubblicato nella stessa collana dove io faccio la prefazione alle lettere dal carcere di Gramsci sto parlando di Fuffar Fusaro è un problema o non è un problema cioè nel momento in cui Wuming si sottrae e dice no io non lo voglio fare questo ma i libri di Wuming vengono distribuiti dalla stessa distribuzione Mondadori che distribuisce i libri di Altaforte perché sono comunque il monopolismo in Italia sull'editoria non riguarda tanto i gruppi editoriali ma riguarda la distribuzione due ce ne sono uno è messaggeria e fa capo a James e l'altro è Mondadori cioè quelle due case editrici e in Audi Altaforte distribuiscono con la stessa distribuzione che fai? dici no i miei libri non li distribuire insieme a quelli dei fascisti cioè non è che i buoni e i cattivi tu dici i buoni e i cattivi non è così facile riconoscerli perché patti con i cattivi ne hanno fatti un po' tutti e qualche volta ci ritroviamo noi dentro un patto di cui ignoravamo anche l'esistenza la contraddizione non ci circonda spesso ci attraversa allora abbiamo citato prego abbiamo citato due nomi no? antitetici uno è Gramsci io l'altro giorno mi hanno intervistato per un documentario su Genova 2001 e abbiamo pensato di andare sulla tomba di Gramsci l'abbiamo fatto in tempo perché penso che poche ore dopo si è capovolta perché c'è stata questa cosa agghiacciante di mettere Maurizio Belpietro direttore per un giorno dell'unità è una cosa inaccettabile altro nome che ricore purtroppo collegato a questo movimento anticostituzionale che è quello di Esa Pound a me viene in mente questo un altro dei trucchi con cui la propaganda fascista si insinua è l'ambiguità tra il conoscere e il sostenere cioè io sono il primo che si legge Esa Pound Selin Junger e Heidegger ma non vuol dire che io sostenga l'antisemitismo il problema non è che una casa di dice perché anche Adelphi pubblica Ernest Junger o Heidegger dipende qual è l'apparato critico qual è l'intento il discorso è che la libertà di parola viene utilizzata per il famoso paradosso della tolleranza viene eluso in questo modo per propugnare delle idee con la scusa della diffusione culturale che sono antidemocratiche Massimiliano tu hai avuto anche tu diciamo un'occasione forse non voluta di scambio dialettico e anche tu hai vinto diciamo dialetticamente di fronte a una possibile manipolazione di una parte politica allora al di là di quello di quello che è successo sono venute fuori tante posizioni tutte interessanti e anche io come diceva Fabio un po' mi sento un pesce fuor d'acqua nel senso non ho un passato militante non ho il mio è un fare editoria scegliere libri proporli scegliere storie però ci sono tante tanti elementi da dover considerare il più immediato ricollegandomi subito a quello che ha detto Michela sì ma è difficile capire è difficile distinguerli è vero è difficile a Torino in quei giorni parlavamo parlavo con una dell'organizzazione mi diceva ma io ci ho parlato con questi di Alto Forte ma sono bravi ragazzi cioè vorrebbero abbiamo discusso ho capito c'è questo di di differente tra non vorrei dire tra noi e loro perché non mi piace questa contrapposizione però se da parte dalla parte più dialettica e democratica c'è la voglia di semmai anche delle volte entrare in confronto cercare di di capire di portarli in posizioni più ragionevoli dall'altra questo viene usato anche come un cavallo di troia per infiltrarsi l'editoria fino ai fatti del salone viveva un po' in una situazione ideale facciamo libri storie belle siamo tutti di sinistra che bello questi sono arrivati dentro casa e ci hanno un po' scombustolato il presente o ci hanno messo di fronte ad una realtà che sta avvenendo fuori io sono un po' il vostro inviato o in un passato che ritorna o in un futuro che sta per arrivare perché io sono di Latina Latina conosciuta anche come Littoria noi ci siamo cresciuti forse abbiamo chi non è di destra perché ha sviluppato gli anticorpi ma ci entra in contatto non viene più contagiato però è capace che amici che sono diventati nel corso degli anni di destra moderato io sono da Lazio te dico solo questo ecco pure io sono da Lazio quindi non ne parliamo oggi lasciamo stare però quindi li abbiamo conosciuti li conosciamo li conosco anche cari amici gente con la quale ci sono cresciuto le esperienze più importanti e poi dopo semmai sono diventati di destra quindi non è un non mi ritrovo catapultato in una situazione apocalittica cosa fare non è semplice io vedo intanto un aspetto facendo editoria un aspetto fondamentale che fa base su quelli che sono i dati del dell'industria culturale italiana in Italia legge un libro l'anno ed è un dato quantitativo il 40% della popolazione c'è un indice di analfabetismo di ritorno pazzesco di comprensione del testo elementare disastroso allora di cosa stiamo parlando la vera emergenza nazionale è questa cioè un governo serio dovrebbe porsi come emergenza nazionale un piano ventennale di alfabetizzazione alla lettura perché diamo gli strumenti a in questo caso ai ragazzi perché me lo immagino proiettato sui ragazzi per decifrare il presente per non farsi far fessi da quattro semmai notizie propagandistiche però viene viene glissato fondi sulla promozione della lettura insomma sono a livelli minimi rispetto a quello che avviene nelle altre nazioni e quindi il problema è più è più sfaccettato tante tante singole azioni fanno se sono coordinate e vanno in una stessa direzione servono non credo in una distinzione di vari gradi di antifascismo perché questo fa il gioco poi di chi ha intenzione di 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 portare avanti quel tipo di idee molti moltissimi in quei giorni dicevano ancora state a parlare di questa cosa gli fate soltanto pubblicità ma smettetela bisogna confrontarsi poi con quello che c'è al di fuori di queste camere d'eco che anche questa è una camera d'eco ci stiamo parlando forse siamo tutti d'accordo sui social funziona in questo modo e quello che per noi sembra reale è una piccola cerchia di quello che è il reale cerchiamo di di mantenere alta l'attenzione e questo sì ma a 360 gradi ogni giorno perché poi se entriamo negli autogrill nelle edicole o in altri in altre tipologie di cartolibrerie troviamo i calendari del duce i bustini la mazza da baseball con scritto Mussolini pensa che partita a baseball ci fai quindi non è soltanto il salone del libro è un è un quotidiano che si presenta costantemente adesso passiamo all'ala dei moderati del centro-sinistra della della gauche caviar visto che abbiamo come dire tante cose da dire e il tempo è poco e giustamente vogliamo ascoltare pienamente l'opinione di tutti se siete d'accordo io lascerei diciamo a Michele e Alessio lo spazio di parlare almeno 10 minuti a testa e poi vediamo se ci lasciano 5 minuti per un'eventuale ah ok vedete meno male ok ma è andata allo stadio oggi no ma questa cosa dietro è un omaggio a fischia il vento perché abbiamo quindi con maggiore serenità affrontiamo la questione a livello di tempo non di situazione io devo dire mi sono trovato come appunto accennava Michele nella situazione paradossale di difendere a spada tratta la posizione di Michele da accuse come sempre vili e stupide anche se condividevo in realtà più la linea di Michela io ho rispettato moltissimo la posizione di Michele soprattutto dal punto di vista umano oltre che diciamo di strategia secondo me è stato importante comunque che la sua voce si sia espressa in quel modo non solo per la sua coerenza diciamo autoriale di pensiero ma anche non nascondiamocelo per il peso che ha in una fiera zero calcare cioè lui ha secondo me in maniera corretta e onesta ha messo avanti il suo pensiero la sua coerenza rispetto a altri tipi di considerazione e non è scontato cioè nel suo caso è scontato perché sappiamo che lui è una persona coerente ma in assoluto non è un comportamento prevedibile e quindi Michele se vuoi visto che hai preso appunti mo ci sforni a tutti prego ho preso appunti perché pensavo da pochissimo tempo e volevo concentrarmi un secondo su delle cose nel senso che io non so una persona brava con i discorsi astratti e quindi cerco di stare un po' sul punto un po' perché penso che se no è anche un po' un'occasione sprecata questo appuntamento qua che è l'unico in cui si sta parlando di quello che è successo e si prova a fare un po' il punto e secondo me se non usciamo da qua con un'idea di come ci troviamo a affrontare questa situazione dopo questa cosa non ci serve sembrerà che rispondo a Michela in realtà non rispondo a Michela rispondo a Michela in parte perché è la persona con cui ho condiviso dei ragionamenti prima a Monte delle scelte che abbiamo fatto eccetera e poi perché è entrato un po' più nel tema poi nel merito delle cose che abbiamo fatto allora un'altra cosa che ho come premessa che secondo me va fatta magari non tra di noi per come ne abbiamo parlato ma in generale quando si parla di questa cosa è che a me personalmente non mi frega un cazzo di fare il gendarme dell'ideologia delle fiere di fare la polizia ideologica o morale dei posti dove sto frequentiamo tutti dei posti che sono pieni di contraddizioni eccetera e qui non stiamo parlando di libertà d'opinione e né di censura di qualcosa del genere qui stiamo parlando di una cosa non dovremmo neanche parlare di una casa editrice perché in realtà questa non è una casa editrice questa è un'operazione politica di un gruppo neofascista che negli stessi momenti in cui c'era questo infuriava questo dibattito e si parlava della libertà delle idee della circolazione eccetera le stesse persone a Casal Bruciato stavano assediando una famiglia di Roma assegnataria di una casa popolare e cercavano di linciarli e strillavano alla madre ti stupriamo e bambini ti buttiamo giù dal balcone nella sostanziale impunità e con le forze dell'ordine io lasciamo fare per tre giorni di fila quindi evidentemente non stiamo parlando di un dibattito culturale stiamo parlando di un gruppo fascista che insieme spalleggiato e in cui si usano strumentalmente a vicenda col ministro degli interni stavano facendo un'operazione di legittimazione all'interno di un mondo che è la stessa operazione che hanno fatto all'interno dei talk show e gli è andata bene perché stanno dappertutto l'hanno fatto all'interno dei vari settori il settore sportivo perché sono accreditati presso un sacco di circuiti di combattimento e di tutte le cose le metastasi metapolitiche che hanno loro per muoversi in questo punto quindi fatta questa premessa io non ho grandi risposte nel senso che nel momento in cui io ho dovuto decidere di fare qualcosa io non lo sapevo bene che bisognava fare tutte le considerazioni che ha fatto Michela sono state anche le mie soprattutto quelle del fatto che ridirarsi significa fare danno ad altri nel caso mio significava fare danno alla casa editrice significava magari non riuscire a trovare una quadra insieme agli altri insomma era evidentemente oltre che tutto io pensavo se io dico che non c'è vado a me mi risponderanno esti cazzi quindi mi sembrava la frase del mitomane che si alza e che dice io non vengo più e mi sembrava irrilevante quasi per tutti e poi appunto mi ci sono confrontato non soltanto con Michela e con altri anche con delle persone che magari hanno una biografia che ha incrociato la mia per tanto tempo con dei compagni miei destrata di tanto tempo eccetera e sostanzialmente a me mi è stato non so come dire a me sono Davidino e Legna che mi hanno costretto a non andare sostanzialmente quindi non voglio fare l'eroe cioè nel senso che io mi sono confrontato con delle persone che mi hanno fatto sostanzialmente detto questa roba su cui poi ho ragionato che lì c'è una questione che c'è che è il compito nostro di chi andava là che era quello sostanzialmente di non normalizzare la presenza di quella casa editrice all'interno di quel contesto lì ora questa roba di non normalizzare quella casa editrice è una cosa che si può fare andando lì o no io non sono riuscito a darmi una risposta alla fine mi sembrava che la risposta che mi ero dato io era no perché in realtà chi anche chi poi mi ha scritto e mi ha rotto il cazzo all'infinito financo questa notte alle due di notte nei messaggi privati di instagram dicendomi ah no perché tu sei scappato ti sei sottratto bisogna andare là a combattere le cose eccetera le parole hanno un peso purtroppo per fortuna andare lì a combattere la parola combattere significa qualcosa andare lì era andare lì a combattere perché poi si dice no però perché giustamente anche nell'appello che ha scritto Michela io mi sono interrogato perché c'erano molte cose che condividevo e diceva giustamente vabbè ma se loro hanno ah li trovi per strada o sul posto di lavoro eccetera tu che fai non esci più per strada o non vai a lavorare no però noi quando li incontriamo per strada non ci andiamo a lavorare seduti accanto a questi nel senso che in verità me lo so chiesto che succede sul posto di lavoro ma in realtà se io sul mio posto di lavoro ho un collega che ha idee di destra che non condivido e magari dice pure delle cose che per me sono barbare io ci posso discutere mi ci posso confrontare posso pure litigarci e dirgli guarda cioè posso tenere un confronto sul piano delle idee ma se il mio collega nella stanza accanto sequestra il collega bengalese e gli dice che l'ammazza lo stupra lo butta dalla finestra io lo devo cacciare a calcio in culo oppure non posso rimanere là dentro e da questa roba purtroppo non si esce e quando ci stanno le manifestazioni come quelle di Casal Bruciato quando noi andiamo lì non andiamo lì quando la polizia li lascia fare per tre giorni non andiamo lì a dire che è sbagliato quello che stanno facendo andiamo sostanzialmente a cercare di cacciarli a calcio in culo questa roba non è sempre praticabile non si può fare sempre ci stanno spesso un miliardo di guardi e mezzo quindi c'è tutto il tema dell'ordine pubblico e tutto quanto ma quando un antifascista incontra un fascista che sequestra una famiglia di Rom quello deve fare o quello deve provare a fare con tutte le sue forze e da questa roba purtroppo per me non si scappa quindi qual è il punto questa opzione al salone del libro era in campo era in campo fisicamente di andare lì e smontare lo stand e mandarlo via a me non mi pareva che quell'opzione fosse in campo là qualcuno me l'avesse detto probabilmente ci avrei ragionato di più in alternativa di questa cosa io non capivo come potevo andare là e ritrovarmi politicamente a non normalizzare quella posizione ma poi c'era una questione anche tutta soggettiva mia nel senso che io con quelle persone anche nello specifico di quelle persone mi ci sono preso abbastonate lanciato posaceneri in faccia ho portato fratelli miei all'ospedale inzaccherandomi di sangue di dietro della macchina eccetera ma come mi puoi soggettivamente a me chiedere di mettermi a lavorare con questi a dieci metri davanti che mi guardano e ridacchiano io questa roba mi dispiace non la posso capire se noi usciamo da questa cosa con qualcuno che è questa cosa che me la fa capire o almeno cerchiamo di trovare più avanti secondo me da questa cosa ne usciremo con un passo avanti se invece non lo facciamo penso che ci sarà bisogno di parlarne ancora finché non troviamo qualcosa che in qualche modo ci convince secondo me appunto io l'ho premesso e lo ribadisco sempre qui non parliamo di opinioni qui parliamo di crimini qui parliamo di reati e quello è il punto non è che non è che da domani uno vuole censurare la lettura di Bagatelle per un massacro di Selin il problema è che se però tu commetti dei reati non lo puoi fare e qui appunto il paradosso della legalità che è la legalità debole ma come diceva appunto Michela se noi ci appartiamo sulla legalità caderebbe il discorso della disobbedienza civile cioè Gandhi diceva ah vabbè ragazzi ci stanno inglesi nel senso è ovvio che qualsiasi forma di rivolta e di protesta nasce nei confronti di una legge ingiusta l'ambiguità la famosa frase che non è un luogo comune ma è un dato di fatto che in Italia non abbiamo avuto un processo di Norimberga e che il questore di Roma 20 minuti dopo nel 46 era un repubblichino che tutti i servizi segreti italiani in realtà i fascisti ci sono sempre stati sono sempre stati infiltrati i servizi segreti italiani la storia dello straggismo degli anni 70 Pasolini sono cose insomma che davamo per scontate sono sempre stati presenti in Italia Ciarapico così almeno dall'azziata riprendiamo un po' dei punti Ciarapico cioè voglio dire è sempre sono sempre soltanto che prima avevano non il pudore ma la furbizia l'astuzia di capire che non potevano vomitare il loro schifo pubblicamente adesso sono legittimati a farlo secondo me e questa è la grave cioè prima la P2 era occulta adesso no non so se mi spiego secondo me voi liberali cattolici Alessio come la vedete? io ho parlato con ci siamo riuniti con Oscar Giannino che è un po' il tuo referente ideologico anche stilistico come vestiario dici certo no ne abbiamo infatti parlato al al comitato politico nazionale giusto la settimana scorsa e siamo arrivati a a una conclusione che poi è molto più ottimista poi tra l'altro di di tutte queste presunte divisioni che comunque ci sono ma sono anche secondo me secondarie alla fine quello che è successo al salone del libro di cui mi interessa parlare soltanto se rapportato relativamente al futuro perché poi è pure questo il tema di oggi e soltanto perché forse io non sono d'accordo con Michela perché forse io sono molto più fuori da 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 certe dinamiche da certi ruoli però penso di essere un po' più ottimista perché in quegli stessi giorni in cui ancora non era uscita fuori la posizione della dell'ex deportata di Auschwitz del museo della Shoah io ero tendenzialmente ottimista perché vedevo che tutte queste divisioni che con pochissimo sarebbero potute essere trasformate nei giornali come la divisione all'interno del salone secondo me non c'è stata non è passata tantissimo questa questa divisione ma io in tutte le telefonate frenetiche che ci facevamo dicevo secondo me li cacciano fuori ora ovviamente io e perché soltanto perché sono forse troppo ingenuo e troppo ottimista ma secondo me nel futuro nelle prossime nelle prossime fiere del libro o anche più libri più libri o anche a Mantova magari un comitato di 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 redazione oppure un un'organizzazione quanto più varia possibile secondo me ha molto più imbarazzo di prima adesso ha molto più imbarazzo di di due settimane fa di un mese fa di invitare la casa editrice Altaforte che poi vabbè a parte come diceva giustamente Michele non è soltanto una una casa editrice però a me è quello che forse mi fa essere un po' più ottimista da liberale cattolico quale sono è proprio Robertiano esatto è proprio non 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 penso ci sia da da adesso in poi la voglia di chi organizza eventi fieristici simili di accollarsi tutta questa serie di polemiche e magari un un sotterfugio una modalità per non invitare o per non accettare degli delle delle proposte magari la si trova secondo me non è quello sostanzialmente il problema perché non solo non è il problema del salone del libro ma di altre fiere ma il problema è proprio di un di una metastasi è stato fatto il paragone molto più calzante della della diarrea anche se sulla diarrea ci si possono anche vedere entrambe le cose purtroppo insieme io sono io infatti da moderato sono esattamente a favore sia della paragone con la diarrea che con la metastasi però anche fuori dalle fiere dei libri ovviamente questi ci stanno e anche se dalle urne dovessero continuare a prendere percentuali minime il problema è che loro hanno non soltanto Salvini ma un linguaggio comune ormai purtroppo normalizzato e diffusamente accettato che fa anche un po' incazzare però ripeto sono continuo a essere ottimista perché questi qua si sono sono stati formalmente invitati come se fossero dei mezzi imbucati a una festa però quelli che stanno nella festa magari li hanno pure invitati formalmente però non sapevano chi fossero sono stati un po' in imbarazzo e alla fine chi voleva andarsene perché non voleva stare con questi che sono arrivati alla festa perché sono stati menati gli altri che dicevano vabbè però continuiamo a essere uniti a cacciarli fuori poi alla fine sono stati cacciati fuori perché secondo me è un risultato bellissimo positivo e che magari in altri momenti non mi sarei aspettato io però volevo chiudere questo spero breve intervento con intanto Michela io ti chiedo di avere un po' più di sensibilità con chi è assente non parlare così male di Diego Fusaro perché è una persona sensibile io la conosco allora lui sta per avere un bambino e si lui lui perché no la moglie non esiste la moglie non esiste e lui sta lui sta passando un periodo te lo sta passando un periodo molto delicato perché ora sa che non vuole cambiare i pannolini perché lo svirilizza questa cosa qua e io ti chiedo di capirlo è una persona comunque si vede anche fisicamente non è capace di una dialettica così pesante però io volevo siccome c'è questa professoressa che è stata citata più volte che è stata praticamente ha avuto un 30 giorni di sospensione per una una cosa una cosa veramente fascistissima allucinante perché ancora non anche se si è fatta le foto con Salvini non ha fatto nessun provvedimento è ancora è ancora come 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 quei ragazzi che che avevano salvato che hanno dato c'è stato un caso di cronaca in cui lì si è fatto la foto con dei ragazzini dicendo ecco vedete sono buone e poi comunque non gli ha dato la cittadinanza sì sì ma a me faceva più impressione questa cosa della professoressa perché io sono io ho fatto il liceo scientifico a Catania avevo un professore di fisica e matematica fascista dichiaratamente fascista che leggeva il giornale sempre anche durante i compiti in classe e per me è stata una figura il giornale di Montanelli no no lui leggeva proprio la Sicilia perché proprio forse lo rubava al bar no lui lui praticamente votava ci diceva proprio in classe una cosa che tendenzialmente non si potrebbe fare che potrebbe essere sanzionabile ci diceva in classe guardate io probabilmente io sono fascista probabilmente voterò alleanza nazionale alle prossime elezioni una volta è stato anche indeciso ci diceva forse voto pds perché mi garantisce la pensione però era diciamo questo era il suo il suo colunquismo però io volevo chiedere se era possibile alla regia ringrazio anche l'ARF di avermi invitato per questo io volevo vendicare la professoressa palermitana con una slide mia cioè io ho portato qui un powerpoint su come riconoscere i fascisti però però vi chiedo scusa in anticipo c'è una grande eccoenza formale vedo certo no io vi chiedo scusa in anticipo perché allora qualsiasi cosa sto per dire e mostrare ovviamente tutti voi poi deciderete io vi cito soltanto dei fatti cioè delle cose che sono accadute non voglio etichettare nessuno con questa definizione di fascista poi mi assumo quasi tutte le responsabilità di quello che ecco la prima immagine è un'immagine non troppo non troppo vecchia mi sposto così voi la vedete quello in alto è Philip De Winter di Vlaams Belang è un un gruppo politico di estrema destra lui sta praticamente appendendo in un negozio dei manifesti in cui c'è scritto stop islamizzazione e lui è un un alleato di Salvini sotto ci sono i suoi parenti più prossimi che sono le le truppe d'assalto le 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 seate naziste che facevano praticamente la stessa cosa quindi io volevo fare questo paragone perché i pri c'è una sostanziale differenza ovviamente non non soltanto c'è la prima foto ha colori l'altro è bianco e nero cambia anche la religione mi sembra cambia la religione però sostanzialmente sono sono due due cose che possono lascio a voi il giudizio sulle possibili similitudini vediamo l'altra immagine per favore ecco questo è lui nel 91 questo è il signore di prima di Vlams Belang quando con la stessa sigla però prima si chiamava Vlams Block lui qui è felice il suo primo giorno di lavoro nel 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 parlamento e questo è uno degli alleati di di Salvini passiamo all'immagine successiva ah ecco questo io sono molto legato a questa a queste immagini perché noi spesso dipingiamo i fascisti come se brutti cattivi però in realtà sono delle persone sensibili carine che si innamorano del proprio leader e l'immagine successiva è un ingrandimento volevo inquadrare se puoi andare nell'immagine ecco io vi auguro veramente di trovare una una compagna o un compagno che vi guarda come Iannone guarda Salvini perché vuol dire che avete trovato proprio l'amore della vostra vita ecco fermi qui ci sono anche le fasciste donne ok però siccome noi non siamo fascisti siamo antifascisti ma siamo anche antisessisti io direi di passare direttamente a non voglio fare body shaming direi di passare direttamente all'immagine successiva quando loro erano giovani sono una Beatrix von Stork del gruppo FDD in Europa cioè gli alleati del movimento 5 stelle cioè quelli che stanno all'opposizione di Juncker quindi si vede già dalla faccia una moderata lei è una che diceva è una deputata dell'AFD tedesco i diciamo i neonazisti ripuliti della Germania lei praticamente una di quelle che ha dichiarato che vorrebbe deportare non ha usato questo termine però vorrebbe mettere tutti gli immigrati che non scappano dalle guerre ma che scappano soltanto da fame e miseria in un'isoletta sperduta a scelta del mar del nord che è il piano originale di Hitler Hitler doveva portare non è una battuta Hitler doveva portare gli ebrei in Madagascar perché dal congresso sionista a cui ha partecipato Franz Kafka il Madagascar era stato indicato come terra promessa quindi niente di originale sì ma io non voglio però fare delle similitudini tendenziose assolutamente Alessandra Mussolini invece è una qui è nella foto dove lei è bellissima è un'immagine tratta da una giornata particolare di Ettore Scola quando ancora era manipolabile da qualche regista invece poi lei è praticamente di Forza Italia e andrà perché sarà eletta molto probabilmente andrà nel gruppo del PPA del Partito Popolare di quelli che sono i colleghi del mio partito cioè i moderati il Partito Popolare Europeo cioè quelli che stanno al governo però queste similitudini tra di loro sono ci sono più le differenze lei invece appunto perché è filogovernativa Alessandra Mussolini è una che magari non fa le stesse dichiarazioni pesanti di Beatrix von Stork lei è una che magari in televisione dichiara che ci vuole forse la tortura per chi molesta minorenni come il compagno no perché lei non ha avuto il tempo di spiegarlo lei è favorevole alla tortura di chi molesta minorenni che non si sposa con lei cioè lei ha escluso è onesta però sì 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 però io c'è anche una una similitudine fra queste due tutte e due hanno un nonno molto particolare e qui vi chiedo di postare l'altra ecco questi sono i nonni di Beatrix von Stork all'estrema sinistra e di Alessandra Mussolini all'estrema destra lui si chiama Luzv Graf Schweig von Krosig ed è il suo nonno gli somiglia pure è vero è tutto vero cioè qui lui è molto vedete questa espressione molto felice perché questo è il suo primo giorno di lavoro come ministro delle finanze del governo Hitler mentre l'altro lo conoscevo io vi chiedo scusa perché ho avuto una presentazione a Lecce ho fatto questo powerpoint di fretta vi chiedo scusa se alcune immagini le ho montate sottosopra ho fatto un po' tutto con questo è per finire non vi annoio ulteriormente passiamo all'altra immagine ecco allora ci sono abbiamo parlato di ministri dell'interno ovviamente io non voglio etichettare nessuno voglio soltanto dire quello che fanno hanno delle differenze sostanziali hanno una similitudine vengono tutte e due da organizzazioni politiche sedicenti comuniste il primo viene dal PC era se non sbaglio segretario regionale della FGC Calabra e l'organizzazione giovanile del partito comunista e quello invece a sinistra viene dal partito comunista Padano poi hanno fatto scelte più o meno diverse e sono diventati tutte e due in tempi ovviamente diversi ministri dell'interno però c'è una sostanziale differenza fra questi due uno ha voluto ha imposto ed ha di fatto applicato un codice di condotta alle ONG totalmente illegale mai passato da una riunione di un consiglio dei ministri in cui imponeva delle cose un po' farlocche tipo la polizia solo sulle navi cosa che non si potrebbe fare perché le ONG sono organizzazioni non governative oppure i bilanci trasparenti cose che comunque già fanno le ONG era soltanto un'imposizione per mettere un po' la mordacchia a chi salva le vite questo l'ha fatto uno di loro l'altro invece l'ha fatto però con la barba cioè con più peli questa è sostanzialmente la differenza che mi viene in mente a parte che uno è del nord e uno è del sud poi l'altra immagine ecco finiamo con dei loghi questa immagine con la scritta in tedesco che non capisco non l'ho fatta nemmeno io è un paragone di due loghi che secondo me che faccio un pochino grafica non è proprio calzantissima però i tedeschi sono talmente sensibili a questo rigurgito di fascismo perché poi noi in Italia poi gira e rigira il problema è quello cioè la colpa principale di tutto quello di cui stiamo parlando stasera è di Palmino Togliatti cioè è sua punto è sempre colpa sua allora loro i tedeschi antifascisti dicono guardate che quelli i giovani della gioventù alternativa che praticamente la sigla è IA come sì in tedesco hanno fatto un logo che è simile al logo delle SA delle Schubstahlung tedesche quindi pensate quanto possono essere sensibili che anche rispetto a dei loghi totalmente diversi loro sono talmente vaccinati sull'antifascismo non solo dal punto di vista legale perché pure pure quello però hanno una sensibilità tale che giustamente la gente scende in piazza e si indigna anche soltanto se un logo sembra vagamente simile o raffigurabile un logo di qualche organizzazione nazista vediamo l'ultima immagine c'è un altro logo ecco un'altra comparazione sono due qui ridete di meno ovviamente però ci sono ovviamente delle differenze sostanziali non è una provocazione la mia ma è evidente che il cerchio rosso che sta a destra è più spesso come come poi vabbè sono due movimenti politici che hanno che sono nati purtroppo in epoche diverse e hanno questa sostanziale differenza uno è un un logo inventato proprio disegnato materialmente da un artista in declino che è anche abbastanza rancoroso con quelli che parlano lingue diverse da lui tanto da paragonarli alla spazzatura l'altro invece è la stessa cosa però con la barba cioè sempre questa è la differenza hanno fatto la stessa cosa parlo ovviamente di Beppe Grillo che ha paragonato gli immigrati alla alla spazzatura e poi vabbè hanno anche un po' di cose in comune tipo uno un partito politico vuole il vincolo di mandato l'altro invece proprio l'ha applicato per per tanto tempo in Germania e basta forse c'era l'ultima no no ah ecco volevo finire volevo finire in bellezza perché sempre perché sono ottimista la cosa buona dei fascisti è che a parte che vabbè muoiono però anche di vecchiaia va benissimo però c'è che quello che mi fa essere ottimista rispetto a tutte queste polemiche rispetto al al fatto che cercano di incunearsi dappertutto è che sono totalmente privi di fantasia e questa per me è una una debolezza che mi rende felice e questa è la prova perché i due loghi di prima sono stati evidentemente o parzialmente copiati da 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 loghi preesistenti ma è soltanto un piccolo esempio e io mi sa che ho finito perché ce n'era un'altra no no questa era di un altro slideshow no era un'altra cosa no se vuoi la puoi mettere però era un'altra cosa che avevo in mente di fare su su Conte vabbè vabbè io almeno potete tutti dire che esisto a differenza del quasi omonimo no su Miniti a parte ciò che ha fatto ma ciò che ha detto c'era un'intervista mi pare su Corriere della Sera in cui Miniti da ministro confessava la sua emozione perché usava la scrivania proprio del duce ma è vera questa cosa non è una battuta eh esatto anche un ex sottosegretario del governo D'Alema sì anche un ex sottosegretario del governo D'Alema si vantava di questa cosa qua c'era Miniti vicepresidente del consiglio nel 99 comunque per le generazioni più giovani il riferimento a Togliatti è che purtroppo fece l'amnestia allora io direi se siete d'accordo se Mauro mi dà l'ok potremmo fare se ce la facciamo un minuto un minuto e mezzo dai di alcune storie di Instagram a parte gli scherzi per come dire fare un riassunto dopo questo primo confronto grazie da Mauro a Daniele come prima allora io credo che incontri come questi dovrebbero durare tanto tempo e dovrebbero essere molto frequenti perché qui purtroppo in un minuto è difficile poi tirare le fila appunto Michela diceva dobbiamo tornare a casa con qualcosa di concreto e sono venute fuori tante cose ma sicuramente ci vuole ci vogliono tanti dialoghi e io in questo momento credo alle interazioni alle alle reti che si possono creare tra le persone qualcuno appunto ha detto come dire cioè ciascuno di noi può fare quello che è in grado di fare quello che riesce a fare gli strumenti che ha il modo di pensare che ha nel senso che io non so né disegnare né far ridere e quindi faccio quello che riesco a fare l'importante è farlo l'importante è fare resistenza cioè fare resistenza significa non far passare la linea non normalizzare cioè non fare non 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 lasciare che passi il messaggio che certe cose siano normali questa cosa va fatta con l'azione di tutte le persone quotidianamente in tutti i campi perché in realtà io so per esempio che nella scuola di mio figlio c'è una persona di Casa Pound che vuole diventare presidente del comitato dei genitori quest'anno questa cosa gli è stata impedita perché delle persone hanno trascinato i genitori per votare però dall'anno prossimo una mia amica che è presidente del comitato dei genitori non ci sarà più perché il bambino andrà all'elementare e allora lui si riproporrà ecco queste cose succedono ovunque e quindi ovunque noi possiamo resistere perché resistere non è una cosa brutta cioè noi ci siamo convinti e questo è colpa anche della tendenza al trasformismo italiano ci siamo convinti che la resistenza sia una cosa brutta e che resistere significa essere contro non si deve essere contro no, resistere significa siamo tutti liberi e libere di fare quello che vogliamo all'interno di una cornice democratica ma quella cornice non si deve superare e all'interno di quella cornice certe posizioni non hanno la stessa dignità e siccome questa cosa sta succedendo io ho visto ieri sera un video di Di Stefano che stava a porta a porta e le domande che gli venivano fatte erano schifose nel senso che gli veniva chiesto ma le persone vengono aiutate in Italia vengono aiutate le persone che sono povere e no che non vengono aiutate noi invece le aiuteremo cioè le risposte erano chiaramente fatte perché le persone da casa che non sanno chi è non sanno cosa si fa dentro Casa Pound che è diverso da quello che si fa dietro cioè che si fa davanti perché quelle canzoni non le cantano fuori ma le cantano dentro e dicono anche altre cose ci sono altre immagini ci sono altre idee che vengono veicolate cioè le persone non lo sanno questo per cui l'opera di resistenza deve essere quotidiana deve essere in qualsiasi appunto per salvaguardare quegli interstizi in cui possono infilarsi per cui l'occasione del Salone del Libro è stata un caso in cui purtroppo sono state le persone sono stati gli scrittori e le scrittrici sono stati gli editori le persone che hanno detto no questa cosa non va bene anche se appunto tutto il comitato ne stava parlando ma c'è questa prova che dobbiamo essere noi a farlo che non dobbiamo fare in modo che si riproponga quello che si è riproposto l'ultima volta e cioè che tutto questo è stato normalizzato che non si è fatto niente che tanto non era un pericolo e che poi subito dopo la Costituzione queste persone hanno ricominciato a creare dei partiti politici che era una cosa che non si poteva fare dico tre cose molto rapide la prima è che ogni volta che qualcuno vi dice sì ma tanto questi sono quattro gatti vi ho dato una risposta abbastanza sintetica nel 19 a Milano il partito fascista prese tipo 3.000 voti tre anni dopo Mussolini è capo del governo quindi quando dicono sono quattro gatti voi rispondete ma va a fanculo secondo io credo che sia il caso di non passare più tempo né energie quando si parla anche tra di noi soltanto io sono molto ostile alla gente che si lamenta è una delle lamentele più grosse che io vorrei proprio non sentire mai più dire alla gente è queste cose in un paese normale non dovrebbero succedere basta non siamo un paese normale l'abbiamo capito andiamo avanti perché altrimenti è come lamentarsi della gente che non rispetta le regole quando stai in guerra è stupido è come trovarsi in una sparatoria in mezzo alla strada e dire non vale la macchina da cui sparate ha l'assicurazione scaduta no chi se ne frega l'ultima cosa che è un piccolo sogno in realtà che è una cosa che io vorrei fare da tanto tempo però da solo mi sento un po' stupido se la facciamo in un po' di persone magari quantomeno ci divertiamo un pochino allora per non dirvi cose stupide sono andato su Amazon a controllare fialette puzzolenti confezioni da 36 12,95 euro se ognuno di noi se fa una scorta se ne porta ogni tanto in giro una e metti caso capiti in libreria che c'è sta nel libro dei Salvini proprio per instaurare quella sensibilità dei tedeschi che ormai le persone sono talmente hanno i riflessi pronti perché è utile che nel tempo capito ci sia gente che entra in una libreria prima vede la faccia di Salvini e fa ma che è sta bussana è merda è un riflesso andarcene con qualcosa io a differenza di Alessio non penso che averli cacciati sia una vittoria non perché ci facessero qualcosa io non li volevo dentro dall'inizio averli cacciati in quel modo in ogni caso viene a seguire viene come conseguenza di una enorme figlia di merda che abbiamo fatto noi quindi quella cosa che è successa come dire non è una vittoria perché il modo in cui è stata ottenuta purtroppo non è un modo vincente è un modo perdente ci siamo trovati sulla difensiva eravamo una marea e non ci siamo saputi difendere adeguatamente da questi quattro cretini quindi questo io non lo ascrivo a una vittoria nostra ti dirò di più che se ho avuto un momento di speranza l'ho avuto quando dentro il salone io prima di andare dichiarando che sarei andata avevo chiesto un gesto nel momento in cui questi se ne sono andati il gesto poteva pure non essere più necessario però ho pensato che forse invece poteva essere una cosa giusta ho detto vabbè magari ci verranno 50 persone anziché 500 a farlo proprio perché non c'è più l'urgenza non c'è l'esigenza non c'è l'avversario presente e invece no sono venuti i 500 e molti sono rimasti fuori perché non sono riusciti a entrare cioè chiamati a compiere un gesto democratico non solo un gesto antifascista cioè chiamati a difendere la propria idea di mondo le persone sono venute ora fatelo dire da una vecchia catto comunista che ogni tanto avere un cote cattolico serve la chiesa cattolica non ha accampato 2000 anni perché aveva il vangelo ha accampato 2000 anni perché aveva la messa i riti servono quindi se c'è una cosa che noi possiamo fare è quella l'errore che è stato fatto e l'abbiamo fatto tutti è stato quello di parlarci tra di noi come se la questione fosse nostra ma non abbiamo detto alla gente che veniva al salone facciamoli stare questi tanto ormai stanno il commerciale non sono stati invitati gli spazi ti chiamano e ti rivendono cioè c'è lo stand della polizia ti pare che la polizia fa l'editore a parte il calendario della polizia c'è lo stand del grande oriente d'italia cioè non è che non fanno selezione chiunque paga entra e non erano tenuti dopo sette mesi di fondazione di questa casa editrice a sapere di chi fosse eccetera non è quello l'importante c'erano bene tu dovevi chiedere alle 140.000 persone che arrivavano lì di dire organizziamo un gesto e lo facciamo tutti e quelli ci sarebbero stati ma con 140.000 persone che gli facevano una messa democratica contro ma tu hai idea di che vuol dire questo per me è una roba potente perché è pieno di antifascisti sto paese ma non c'hanno un riferimento che sia uno che gli dica guardate abbiamo un luogo dove andare un gesto da compiere e ci guardiamo in faccia gli uni con gli altri quindi da questo punto di vista il gesto politico più importante che possiamo fare è chiedere alle persone presidiamolo quello spazio con un gesto significativo amen alleluia dico una cosa non si parla dei presenti quindi non dirò i nomi due persone con cui mi sono confrontato in questo periodo una persona che diciamo del direttivo del salone mi ha detto che in realtà quando Altaforte si è proposta al salone non aveva ancora un catalogo quindi loro non erano consapevoli di chi fossero minimamente e seconda cosa quando parlavamo prima delle metastasi io ho discusso in maniera anche abbastanza accesa con una con un liberale davvero e io gli ho detto guarda che cioè dicono perché la violenza non devi estromettere la democrazia gli ho fatto sì ma se se c'è un tumore tu non devi avere paura di incidere se no il tumore queste sono cellule tumorali che stanno possono uccidere il corpo della democrazia e il problema secondo me come sempre è la maggioranza silenziosa e sono i cosiddetti liberali cioè Pierluigi Battista che dice ho comprato le copie a parte quelli che dicevano li avete fatti schizzare su Amazon che vuol dire su Amazon ci mettiamo d'accordo mettiamo un libro primo classifica domani mattina lo ordiniamo tutti primo su Amazon e poi se 23 copie le ha comprate di Battista ce l'ha mandato lui primo su Amazon nel senso questo secondo me il problema è che è ovvio che i fascisti difendono i fascisti eh li confondo ormai hai ragione scusate rifuso no la cosa assurda è che appunto le persone che dovrebbero essere coloro che sono i commentatori liberali delle regole democratiche non hanno capito la gravità della cosa oppure come accennava Maura Bruno Vespa che fa le domande a Di Stefano come se porta avanti un'opinione politica che vale come un'altra è quello il grave complice e lui lui come esempio che dà la legittimità politica a qualcosa che dovrebbe stare nel secchio della spazzatura condivido totalmente la posizione di applicare nel privato nel sociale sul posto di lavoro un'attitudine antifascista democratica nel nostro fare quotidiano quello che è successo al Salone sarà forse paradigmatico in futuro per il nostro anche fare editoria e quello che può la forza che possono dare le storie gli anticorpi che possono innestare nel nel corpo vivo poi del lettore ritorno sul lettore anche sul ragazzo sul bambino per farlo crescere con certi strumenti in grado di decodificare certi messaggi è fondamentale scusate se parlo di quello che faccio però sono un editore e questo faccio se vogliamo dare l'immagine un'immagine di instagram che sintetizzi molto l'altro giorno ci è arrivata la notizia che in un manuale di prossima pubblicazione di letteratura per la la scuola primaria la scuola secondaria di primo livello verrà inserito un nostro graphic novel che trattava delle scuole democratiche dell'integrazione della popolazione sint quindi ci saranno schede critiche ci sarà il fumetto lì all'interno e se quello servirà un domani per far cambiare idea su gli ultimi degli ultimi che sono i rom gli zingari chiamatele come vi pare sarà un successo e quindi è un'azione appunto da rendere quotidiana mica che dici io dico che ce ne andiamo qua comunque con un problema che non pensavo di risolvere qua e infatti non l'abbiamo risolto qua e quindi ne dovremo continuare a parlare forse abbiamo fatto dei passetti avanti ma non sarà sufficiente nel senso che se pensiamo che il punto è che io sono un ottimista e soppure uno spirito semplice per me ogni volta che loro si attaccano al cazzo un po' è una vittoria quindi tutto sommato io quella roba l'ho presa bene però quando diciamo che quella roba non si può normalizzare significa che non è che la prossima volta possiamo riprodurre il teatrino dove tutti sanno esattamente le parti per cui zero calcare è quello che non ci va a Michela Murgia è quello che ci va ma con l'appello ma guarda però io ti obbligo smontaglio lo stand quindi diciamo che penso che dobbiamo riflette effettivamente a che cos'è che mette in crisi quel meccanismo io continuo a pensare mi sembra sempre che rispondo a lei ma in realtà rispondo a lei perché è la persona con cui mi trovo ha ragionato e più nel senso che è quella che parla di che cose bisogna fare e il resto nel senso se parliamo di cose stratte io non so che risponde a te ti rispondo perché penso che stiamo a cercare di capire che cosa si fa se non ti risponderei e io ho paura che il gesto non metta in crisi quel meccanismo nel senso che io ho paura che il gesto è una roba che poi tutti vedono su Instagram che a noi soggettivamente ci fa fa un sacco di hater da una parte un sacco di like dall'altra eccetera però è qualcosa che continua a non mettere in crisi quel meccanismo là e invece secondo me noi dobbiamo assumerci la responsabilità neanche non andare mette in crisi quel meccanismo se poi è uno che non va non è che sto a dire che io ho la soluzione noi dobbiamo capire assumendoci la responsabilità di quelle che saranno le scelte nostre da tutti i punti di vista di cosa è che mette in crisi quel meccanismo e se non lo troviamo da sta roba per me non usciamo bene io io essendo ecumenico sono d'accordo sia con Michele che con Michele perché è vero che c'è stata una reazione totalmente scomposta disordinata ed era molto meglio avere una posizione più compatta più organizzata però continuo a pensare che purtroppo non lo potremmo mai prevedere cosa ci sarà e la situazione in cui le situazioni in cui le situazioni che dovremmo affrontare io cos'era questa cosa dell'immagine di Instagram non ho capito io volevo io volevo dare un'immagine di Facebook no perché quando c'è stato il salone del libro non so se sicuramente ci avrei fatto caso io ero a Roma vabbè sarei dovuto andare io sono la posizione più sfigata di tutti perché mi dovevano pagare poi il giorno prima non mi hanno pagato per andare quindi in ogni caso io non ci sarei andato e siccome ho questo senso di frustrazione di twittatore e internauta compulsivo sono andato a rompere i coglioni alla 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 sindaca Chiara Pendino dicendo quando ancora aveva la posizione no vabbè lasciamo listare che però in realtà era una una posizione molto più paraculla di quella di di Chiamparino che diceva che l'ha detto proprio esplicitamente lei era era un po' più possibilista la cosa fantastica che mi fa capire che io sono sono cioè sbaglio tutte le volte che sono depresso e ci stanno i grillini a dimostrarmi che sbaglio Chiara Pendino mi risponde proprio dice mi risponde proprio su facebook dicendomi ah ma dobbiamo essere tutti antifascisti come ha detto Michela Murgia e tagga Michela Murgia non l'hai visto il tag? è t'ha taggata t'ha taggato Chiara Pendino si poi ti faccio vedere lo screenshot ma mi fa piacere comunque in ogni caso che non hai risposto anche se anche se involontariamente su questa su questo equivoco social io adesso non finisce questo dibattito perché io spero che continuerà che una volta che queste intelligenze si sono allineate si può come ospita giustamente Michele continuare a parlarne a trovare una soluzione una linea comune io propongo Mauro prima della chiusura un applauso non so se tu vuoi fare tu il grande lanciatore di applausi più che altro per evitare considerate che il macro ha chiuso quasi mezz'ora fa quindi questo incontro che mi sarebbe piaciuto prolungare per altre due ore purtroppo si chiude sono contento che è stato l'incontro più lungo di tutto questo ARF anzi l'incontro più lungo da quando esiste ARF e anche che sia quello conclusivo di quest'anno perché ci lascia con delle domande e propositi su cui possiamo lavorare per un anno intero prima di ritrovarci qui ad ARF 6 grazie a tutti voi che siete rimasti qui finora grazie a Maura Gangitano di cui vi chiedo un applauso enorme a Daniele Fabri a Michela Murgia a Massimiliano Clemente Alessio Spataro Zero Calcare Marco Rizzo che ci ha mandato il video Adriano Ercolani che ha condotto questo incontro a tutti voi che avete aspettato finora la conclusione di questo incontro grazie ci vediamo fra un anno grazie a tutti